I prodotti che ci circondano, il design, le soluzioni tecnologiche che hanno migliorato la nostra vita, la musica, i libri, l'arte. La proprietà intellettuale è più vicina a noi di quanto immaginiamo. Come sarebbe un mondo senza? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. In ogni invenzione c'è un sogno che diventa realtà. Proteggiamo le idee. Proteggiamo il futuro.